Nella zona di Porta Mosa, poca distanza dal centro storico di Cremona, i residenti di via Gaspar e Pedone denunciano uno stato di abbandono che dura da decenni. Le mure storiche continuano il loro lento e inesorabile declino, senza alcuna manutenzione, nonostante le promesse, le ultime appena giugno, sono a rischio crollo. La manutenzione del verde è scarsa o nulla, il problema è che i cittadini continuano a segnalare, a richiedere all'amministrazione un po' di cura per quest'area cittadina a poche centinaia di metri dal Duomo e dalle grandi potenzialità. Questo fico è presente in quest'area da oltre 50 anni, 7, 8, 10 anni fa. Ripetutamente degli operai hanno tentato di estirparlo, questo però come potete notare è risultato. Il fico è molto più forte, non c'è niente da fare o meglio ci vorrebbe un architetto, sarebbe sufficiente un geometra perché si aprisse una parte delle mura dando respiro al fico senza che poi succede quello che si può vedere qua. Non è solo un problema di sporcizia vergognosa, ma è il problema che questo muro sta iniziando a piegarsi verso il marciapiede. Sopra a quella parte vi è una pianta infestante che è diventata un alberello. Una residente ha addirittura proposto di occuparsi lei della piccola aiuola comunale che sorge al di fuori della sua abitazione, ma l'è stato negato per via di un lungo iter burocratico che avrebbe dovuto affrontare. Così si trova a dover convivere col degrado. Ma è il comune che dovrebbe metterlo a posto, non sono io, non è che io lo voglia, è qui da vedere, è una cosa indecente. Non ci sentono, no. La zona è così isolata che un lampione della luce è stato addirittura rubato, ora non essendo mai stati sostituito, lascia al buio buona parte del quartiere. Parliamo di dieci mesi fa, silenzio totale. Vorrei rivolgermi al signor Bona Rodolfo, assessore al verde e dalle piccole cose. Se non si è in grado, se non si hanno i mezzi e le possibilità per intervenire, lasciate il posto ad un'altra persona.